Allora io dico che la curatura o la ami o la odi, cioè non c'è una mia di mezzo, o lo ami o te la mangi o pure no. Il mio nipote, da sei anni, non entra qua perché c'è molto d'odore forte, allora io quando vado a casa lo tengo addosso e quando entro a casa mi avvicino. E lui dice, nonno fatti prima la doccia e poi giochiamolo perché l'odore è molto forte. Allora lui dice, ma che c'è? Questa cosa macerata, questa cosa perché la devo mangiare? No, non è quello, è il pesce che dà il buono a questo lì. Ti senti emozionatissimo, molto emozionato. Allora, potete immaginare, guarda il liquido che ti chiama e dici provami, fammi vedere se ho fatto bene, ho fatto male questo mio lavoro. Allora, per me è come assaggiare una cosa che non c'ha valore, cioè per me è un sapore molto strano perché è buono. Allora, potete immaginare. Allora, potete immaginare. Allora, potete immaginare. Allora, potete immaginare. Allora, potete immaginare.